Allora, sarebbe importante farlo per tutta la vita, perché ci si arriva meglio. Se non si è mai fatto, comunque è sempre molto importante. Bisogna avere un approccio corretto, magari iniziando con le attività più dolci e si può poi arrivare a fare attività anche agonistiche. Ogni federazione al suo interno ha ormai il settore master, per qualche federazione è anche più rilevante per certi aspetti e soprattutto è molto bello perché aiuta l'essere psicofisico della persona, crea socialità, si occupa il tempo per chi magari non ha altri interessi, comunque tutti dovrebbero fare, se non lo sport inteso agonistico, ma un'attività motoria. Ci sono alcuni porti veramente dedicati, chiamiamoli sport, attività motoria, la camminata, oggi è di moda anche il nordic walking, certamente l'acqua gym, le attività in piscina perché sono quelle che gli danno meno problemi di possibilità, di avere traumi che si possono avere magari su una corsa per strada, anche se molti corrono, per carità non fa male, la cyclette, poi va bene yoga, pilates, la ginnastica, ginnastica dolce per esempio è una delle attività molto indicata per quella che oggi si chiama silver age.